Buonasera a tutti ragazzi Allora, da come avete potuto vedere dalle mie storie di Instagram Seguitemi su Instagram Tarzan è scomparso Ho cercato il lungo e il largo in Slovenia, in Serbia Tarzan non si trova Prima sono uscita a comprare un po' di droga E a casa c'era mia mamma, mio papà, mia nonna, mio nonno, mio prozio della Slovenia Mia cugina, mia sorella, mio fratello E mi chiedo ancora come sia possibile che questi 47 cristiani non siano riusciti a vedere Tarzan Che è volato via Nel senso che ha aperto le finestre e si è sentito un piccolo Batman Tarzan è volato via, non so dove sia L'ho cercato sui grattacieli di New York A Los Angeles A Colosseo Tarzan non si trova Giorni fa mi è arrivata una lettera da parte di un signore Che adesso non sto qui a dire il nome Con su scritto se vuoi riavere il tuo piccolo Batman Devi cominciare a portare dei contenuti originali su YouTube Io ragazzi non so cosa fare Cioè, boh, io non so cosa fare Io non riesco a portare contenuti originali su YouTube Il mio canale è un canale di fallimento Morente Ho cominciato a fare video inutili Video schifosi Video privi di qualità Sono cambiata Non sono più riccia Non sono più me stessa Io ogni giorno mi sento diversa Io ogni giorno cambio entità Io ogni giorno cambio In conclusione ragazzi Io credo che il piccolo Tarzan non lo vedrò mai più Quello che posso dire è Io voglio soltanto il mio Tarzan Posso cominciare a fare musicali se è necessario Però non riesco veramente a portare dei contenuti Quindi perdete la voce E aiutatemi in qualche modo a cominciare a fare musicali O comunque a portare dei wine o cose del genere Che in qualche modo risultino più decenti Nei contenuti che io porto attualmente su questo canale Insegnatemi a portare dei contenuti Non clickbait Perché effettivamente questo video Non è clickbait Perché esiste veramente un signore Che ha rubato il mio piccolo Batman Posso solo chiedervi di aiutare E me è medesima A ritrovare Il mio piccolo cane Per favore Io non chiedo altro Chiedo solo il mio piccolo Tarzan Questo è un altro contenuto cringe Innocence Che ho voluto portare Perché a quanto vedo Scrivere cane nel titolo Scrivere comparso in un titolo Porta ad avere milioni Milioni di salutazioni Metto questo Io vi saluto E vi auguro un buon proseguimento E vi auguro un po'